buongiorno a tutti bentornati sul canale buon lunedì a tutti eccoci qua con una grandissima combo la più bella che mi sia uscita mettere armin zola nella londra di sinistra lui mi copia venom venom si mangia l'impossibile qui vediamo che ha mangiato e giustamente volvere in salta da una parte all'altra poi venom rimangia tutti quanti il proprio venom e due wolverine che risaltano da un'altra parte acqua sinistra vedete però cosa fa in questo momento armin zola guardate armin zola mi ricopia armin zola di qua che va a ricopiare wolverine che salta di nuovo in mezzo ne salta un altro a sinistra ne salta un altro di la bordello un bordello mamma mia guardate che bella chiusura finale lui può fare poco con cap america chiusura finale 34 64 e lui ne dice solo uno perché va a smesso di copiare questa signori è la combo più bella che ci sia con il mazzo di mangiatori venom e tutto il resto provatela e fatemi sapere nei commenti se volete una serie completa su questo gioco che sono intenzionato a portarlo ciao a tutti ad un prossimo video bye bye